La più colossale stupidaggine, cretinata, minchiata, puttanata che sia stata detta e scritta sulla strage di Bologna che costò la vita ad almeno 85 vittime innocenti e che sia stata finanziata niente po' di meno che da Licio Gelli, tanto è morto non può smentire né confermare, che con i soldi del Banco Ambrosiano avrebbe foraggiato i neofascisti per mettere la bomba alla stazione di Bologna. Se poi dopo ai comunisti che sostengono questa tesi anche da un punto di vista giudiziario chiedi il perché, non ti sanno rispondere. Boh, è perché, perché non c'è un perché, perché non è vero ed è la miglior dimostrazione che è una stupidaggine, è l'ennesimo depistaggio. D'altronde i comunisti non hanno bisogno di dimostrare che sia vero quello che dicono. Dobbiamo accettarlo e basta.